E' stata presentata la 39esima edizione del Torneo Grandi Marche, organizzato dal Centro Bulling Oltremare. Alla conferenza stampa nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo hanno partecipato l'assessore allo sport Giuseppina Tommasielli, il presidente della Mostra d'Oltremare Nando Morra ed il presidente della Commissione Sport e Politiche Giovanili Gennaro Esposito. Noi non amiamo questa definizione di minore perché per noi gli sport sono tutti uguali, specialmente quando come il bullying diventano un momento di partecipazione, di aggregazione, luoghi di socialità per i giovani, che noi vogliamo tenere lontani da luoghi meno sani. Noi sosteniamo iniziative come queste che portano non soltanto incremento alle attività sportive e ludiche, ma portano anche un contributo all'economia della nostra realtà territoriale. La manifestazione è aperta a 14 squadre, si articolerà in 4 specialità per un totale di 27 giornate di gara e vedrà in azione giocatori provenienti da tutta la campania. Ci si incontra al bullying per una serata tra sport e divertimento, perché comunque il bullying è un momento di aggregazione, quindi crea uno stare insieme che è anche piacevole e un dopo sport che riesce a dare qualcosa in più alle persone.